Anticipazione imposta al sole. Giovedì 13 giugno 2019. Purtroppo la rapina al caffè vulcano lascia una scia molto traumatica sui presenti. Roberto fa una scoperta che gli provoca non poco fastidio e che potrebbe indurlo a ritornare ad essere l'uomo spietato di un tempo. Scopre che Alberto vuole non solo copiare ma anche affossare il suo ambizioso progetto di chartering. Guido ha un confronto con Cerruti e i due finalmente giungono ad un chiarimento. L'uomo si accinge ad iniziare la sua nuova vita con Mariella e con il piccolo Lorenzo. È davvero felicissimo di essere diventato papà e forse era cosa che più desiderava al mondo.